Questo è il fiumicello Brendo, la fiume più importante del comune che arriva a Sarego e Lonigo. Di solito in questo periodo qua è appena al di sotto di quel tubo lì rotto praticamente e questi livelli qua li abbiamo visti nel 2003 a fine luglio, primi di agosto quindi siamo circa un mese in anticipo rispetto a quella che era la problematica. Si cita che a giugno peggiora la situazione visto che molte colture sono in fioritura come il mais in difficoltà anche i vigneti di primo impianto e gli ortaggi. Da sabato qui è scattato il divieto di attingimento di acqua per uso irriguo. Sabato a Sarego ci sono verificati delle morie di pesci per cui con la Polizia Provinciale e con il Consorzio Alta Pianura Venta abbiamo deciso di fermare l'irrigazione in attesa di trovare un accordo quindi stiamo parlando con il Consorzio, con Alta Pianura Venta, con la Polizia Provinciale per trovare un accordo per reggimentare a orari precisi e a date e a giornate precise la possibilità agli agricoltori di attingere acqua. La proposta per andare incontro agli agricoltori è quella di suddividere le aree coltivabili da irrigare in tre zone. L'idea è quella di suddividere il comune in tre zone quindi fare uno o due giorni per zona alternate in modo che tutti quanti possano almeno arrivare a irrigare le loro culture che hanno più necessità in quel periodo. Situazione che mette a rischio anche la fauna ittica per cui il sindaco ha allertato prefetto e denti competenti per scongiurare morie di pesci ed evitare anche ricadute igienico-sanitarie sul territorio. 25 giorni di pioggia in sei mesi e domani un tavolo di confronto in provincia per tracciare le linee guida a cui i sindaci chiamati ad intervenire con ordinanze di razionalizzazione dell'acqua potranno attenersi.